Abbiamo detto che entro giugno avremmo fatto questo tagliando e così è stato, devo intanto esprimere la mia gratitudine agli assessori che lasciano per il lavoro svolto e devo dire che questo tagliando è stato anche favorito da un gesto che ho apprezzato molto, un gesto simbolico di tutta la Giunta che di fatto informalmente ognuno ha rimesso il proprio mandato lasciandomi libero di scegliere dicendo a distanza di due anni valuta tu, giudicaci tu. Si cerca di apportare anche eventualmente delle competenze migliorative utili alla causa. Ho parlato un po' con tutti e poi le scelte sono state elaborate in questi giorni, sono durate in questi giorni, quindi Giulia Capria come assessore alle attività produttive, Silvio di Francia che avrà cultura, turismo e sport e Gianmarco Proietti che si occuperà di bilancio e di scuola.